Sandro Morselli, CSI, organizza per giugno la Summer Cup, un bel torneo su campi in sintetico. Di cosa si tratta? Anche quest'anno, come già lo scorso anno, ripetiamo il torneo Summer Cup. Quest'anno solamente con 24 squadre, però riteniamo sia un bellissimo torneo di caccia 7 che, come hai detto tu, facciamo sia nel sintetico di Sandornino e di Rosselli Mutina. Le squadre sono 24, come ho già detto prima, facciamo sei gironi da quattro squadre e cerchiamo ogni anno di migliorarci. Il torneo è già partito, è partito il 6 di giugno e finirà il 7 di luglio. Cerchiamo sempre di proporre qualcosa di nuovo, il calcio a 7 vedo che è in forte espansione, e cerchiamo di fare tutti gli anni questo torneo che, come ripeto, tutti gli anni ci dà un grosso contributo a continuare a fare attività con le squadre che ci seguono. Le fasi finali si svolgeranno con quarti, semifinali e finali. La finalissima, come ho detto prima, è il 7 di luglio e speriamo che tutto vada nel verso giusto. Il tempo ci aiuti, anche se giochiamo nei campi sintetici, dove praticamente giochiamo sempre. Perché il torneo Summer Cup? Principalmente perché avevamo intenzione di fare un torneo per allenarci anche in vista della prossima stagione. Lo scorso campionato non abbiamo fatto una bella figura, allora ci serve comunque per tenerci in allenamento, visto che comunque cominciano anche tra un po' le vacanze estive, insomma perdiamo un po' di gente per le ferie e questo ci sembrava l'occasione giusta per metterci alla prova. D'estate quindi è un modo, questo torneo, insomma, per tenervi in forma, in qualche modo magari oliare qualche schema? Sì, principalmente per cercare di capire chi ancora può far parte anche del gruppo oppure chi comunque non ha più voglia per vari motivi che possono essere qualunque, la famiglia, il lavoro e anche perché no, per trovare nuova gente e conoscere nuova gente che magari da inserire nell'organico l'anno prossimo. Noi la prima volta che facciamo questo torneo qua siamo orgogliosi e contenti di farlo, ci sembra un buon torneo. Di squadre conosciamo solo una squadra dell'altro girone che abbiamo avuto l'onore di affrontare nello scorso campionato, molto forti anche loro, quindi mi sembra un torneo abbastanza equilibrato. E devo ripetere, essendoci così poche partite, secondo me serve proprio per dare il meglio, per cercare di arrivare comunque il più avanti possibile. Ultima battuta sull'organizzazione CSI che voi evidentemente conoscete molto bene. Sì, noi ci troviamo comunque benissimo, l'organizzazione è impeccabile, ogni volta che abbiamo qualche problema la risposta comunque è immediata, ci sentiamo spesso per anche altre cose e comunque l'organizzazione del CSI è impeccabile. Inizia l'avventura della Summer Cup per voi della Campagnola, che cosa vi aspettate da questo torneo? Ci aspettiamo un bel torneo perché l'anno scorso ho partecipato con un gruppo di amici, quindi ho visto che è organizzato molto bene, ci sono molte squadre, i campi sono perfetti, quindi ci aspettiamo un bel torneo. Allora, la squadra è composta principalmente da un gruppo di amici che giochiamo insieme da molto tempo, chi gioca in una squadra e chi gioca in un'altra, ma comunque d'estate riusciamo sempre a trovarci. Siamo principalmente amici, abbiamo fatto una bella squadra, secondo me puntiamo a fare un bel percorso, comunque principalmente un gruppo di amici, siamo qua solo per divertirci. Una battuta sull'organizzazione CSI e in particolare sui campi in sintetico qui a San Donnino e alla Rosselli. Per me è ottima, spettacolare perché veramente i campi sono bellissimi, gli impianti sono belli, il torneo è organizzato benissimo, ma i campi sono veramente perfetti, un sintetico perfetto, bellissimo.